Un saluto dal Tg della mobilità, avanza in fretta a strade nuove, il programma di riqualificazione urbana avviato dal Campidoglio. Entro giugno saranno 800 in città e chilometri di strada con asfalto rimesso a nuovo. Con il piano strade nuove si stanno riqualificando le strade di grande viabilità, quelle dove si concentra circa il 70% dei passaggi veicolari. Tra questi sono da menzionare i lavori sulla Via del Mare, sulla Via Ostiense, Via Aurelia, Via Torsa-Pienza o Via Borghesiana, i cui lavori sono in corso ma anche la manutenzione completa della Galleria Giovanni XXIII e di Ponti e Viadotti come quello di Tordiquinto o della Magliana. Per la manutenzione ordinaria delle strade sono previsti oltre 110 milioni di euro di spese in due anni, oltre che alle spese per interventi di manutenzione straordinaria. Investimenti di risorse che dal 2016 hanno raggiunto la cifra complessiva finora di oltre 400 milioni di euro. E tutto appuntamento alla prossima edizione.